Restano serie le condizioni dei due giovani, uno di 24 anni e l'altro di 38, rimasti feriti ieri sera in un tremendo scontro frontale avvenuto a San Giorgio sulla provinciale verso Carpaneto. Entrambi i conducenti sono ricoverati nel reparto di ortopedia e traumatologia. Lo schianto è avvenuto ieri per cause in corso di accertamento. Nello scontro una vettura è finita nel campo a lato della carreggiata, l'altra contro il guardrail. Entrambe sono andate completamente distrutte. I due conducenti sono rimasti incastrati, lungo e delicato l'intervento dei soccorritori per liberarli, sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia stradale. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso di Piacenza. La strada ieri sera è stata chiusa per tutta la durata delle operazioni di soccorso.